buongiorno le fiere sono ancora oggi uno strumento valido per poter vendere di più andare nuovi mercati magari andare anche all'estero trovare nuovi clienti quali sono le vostre aspettative su un evento fieristico che cosa posso realmente ottenere come posso spremere al massimo l'investimento nella partecipazione una fiera indubbiamente il modo di fare fiera è cambiato molto non sono più manifestazioni nelle quali si sta seduti dentro il proprio stand aspettando dei clienti che vengano e che sottoscrivono degli ordini oggi la fiera è molto di più la fiera va preparata la fiera diventa un evento durante il quale io posso stringere nuovi contatti che ho creato magari in precedenza la fiera è anche fuori salome come ci hanno insegnato le manifestazioni milanesi di moda e di design la fiera diventa un'occasione anche dal punto di vista digitale perché attraverso strumenti come twitter o linkedin io posso attirare e dialogare con nuovi clienti durante il momento della fiera ma anche prima e soprattutto dopo la fiera non finisce nel momento in cui si chiude l'evento fieristico ma può continuare come faccio a capire a sfruttare tutto questo nel modo migliore la scuola d'impresa borgo castellania organizzata in collaborazione con l'associazione le magnolie vi offre le risposte a queste domande grazie 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 grazie